Finale Eurovision, Angelina Mango in gara. Tutto quello che c'è da sapere. L'Italia stasera si radunerà su Rai 1 a partire dalle 21 per fare il tifo per Angelina Mango in gara stasera alla Malmo Arena per la finalissima di Eurovision Song Contest 2024. La vincitrice del Festival di San Remo sarà la quindicesima cantante in gara sui 25 paesi concorrenti. Quindi occorrerà attendere fino a circa metà serata per ascoltare la sua La Noia, firmata da Dardust e Madame, in una gara che sarà aperta dalla Svezia, paese ospitante e chiusa dall'Austria. Angelina si è presentata ieri in sala stampa portando il più bel messaggio di pace musicale attraverso un'improvvisata immagine di John Lennon. Ciao a tutti, sono qua perché vorrei veramente esprimere i miei pensieri a modo mio con le mie parole, ha dichiarato l'artista visibilmente molto emozionata parlando ai cronisti internazionali in inglese. Quando sono arrivata qui ho visto artisti proprio come me che vivono per la loro musica e parlano. Tramite la loro musica ha detto l'artista che si è esibita con una grande performance nella semifinale di giovedì. Mi sono esibita su quel bellissimo palco dell'Eurovision con il mio cuore pieno d'amore. Sono andata a letto così fiera di me stessa e di noi tutti. Ora voglio lasciar parlare la musica, ha detto. Angelina Mango ha poi iniziato a cantare Immagine, accompagnata da una chitarra, un inno alla pace in tutto il mondo. Per quello che riguarda i concorrenti più accreditati in gara ci sarà l'Ucraina, che si esibirà per seconda, col brano dedicato a Madre Teresa e alla Madonna Teresa in Maria di Aliona Aliona and Jerry Heil, Israele con il brano Hurricane scritto dopo la strage del 7 ottobre 2023 e interpretato da Eden Golan, sesta in scaletta, la Svizzera con The Code in No Genderless di Nemo con 21esimo in scaletta, la Croazia con Rim Tim Tagidim del lanciatissimo Baby Lasagna 23esimo in scaletta e la Francia con la romantica Mon Amour di Slimane. Non ci sarà invece l'olandese Joost Klein. Lebu, che organizza l'evento, ha fatto sapere in una nota che la polizia svedese ha indagato su una denuncia presentata da una membro femminile della troupe di produzione in seguito a un incidente avvenuto dopo la sua esibizione nella semifinale di giovedì sera. Mentre il processo legale procede, non sarebbe appropriato che lui continuasse nel concorso. Abbiamo una politica di tolleranza zero verso i comportamenti inappropriati durante il nostro evento e ci impegniamo a garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutto il personale del concorso. Alla luce di ciò, il comportamento di Joost Klein nei confronti di un membro del team è stato considerato una violazione delle regole del concorso. I concorrenti in gara questa sera saranno dunque 25 e non più 26. A intrattenere il pubblico nell'attesa dei risultati del voto ci sarà la performance della vincitrice uscente Lorine, la prima donna ad avere conquistato due Eurovision, che interpreterà la canzone che ha portato al trionfo a Deliverpool Tattoo e il nuovo singolo Forever. Stasera in arrivo a Malmö Maramajonchi per raccontare insieme a Gabriele Corsi la finalissima che si disputerà alla Malmö Arena. Mario Acampa sarà invece il portavoce annunciando il risultato del voto della giuria italiana durante la serata finale. La finale sarà trasmessa anche in diretta radio e video su Rai Radio 2, canale 202 del digitale terrestre e TVSAT, condotta da Diletta Parlangeli e Matteo Osso. Rai Pubblica Utilità renderà interamente accessibile la finale anche attraverso la lingua dei segni su un canale dedicato di Rai Play. Ben 11 performer, sordi e udenti, che hanno iniziato la loro preparazione attraverso prove da remoto, interpreteranno in LIS, lingua dei segni italiana, e in ISL, lingua dei segni internazionale, sia le 26 canzoni in gara sia le canzoni degli ospiti, restituendo ritmo ed emozioni di ciascuna performance, sia al pubblico a casa che a quello presente in studio. Due interpreti invece tradurranno in LIS la parte di conduzione. La diretta sarà disponibile anche in streaming su Rai Play e sarà diffusa in tutto il mondo grazie a Rai Italia.